Giovedì sera, preso il via ufficialmente a Pordenone, la rassegna è stata in città 2011. Il tradizionale concerto di apertura in piazza 20 Settembre ha visto sul palco la Mitteleuropa FWG Orchestra, diretta dal maestro Eddie De Nadai. La festa è stata parzialmente guastata dalle avverse condizioni atmosferiche, che hanno costretto ad interrompere lo spettacolo dopo alcuni brani. Sono quasi 300 gli appuntamenti che animeranno la città nei mesi di luglio e agosto. Affediamo al sindaco Claudio Pedrotti un commento sulle prossime iniziative di questa tradizionale rassegna pordenonese. Cominciamo estate in città, 2011, è un'incredibile scatola piena di 300 eventi che si snoderanno per tutta la città, ovviamente con il cuore qui in piazza 20 Settembre, ma che ci faranno anche scoprire i parchi, i nostri luoghi in cui facciamo cultura. Insomma, è un modo di non solo godere degli spettacoli e dell'alta qualità di questi spettacoli, ma anche di riscoprire la città durante l'estate. Gli spettacoli ce n'è per tutti i gusti, sappiamo, non c'è genere musicale che alla fine non venga toccata da questa manifestazione come ogni anno. La bellezza di questa manifestazione sono le nostre associazioni che partecipano in modo attivo alla creazione di questo evento e devo sottolineare e ringraziare l'assessorato alla cultura che ha fatto uno sforzo per gestire questi 300 eventi con il resto della struttura amministrativa, perché mettere sedie, palchi in giro per la città non è sempre facile. Quindi ringrazio in anticipo tutti quanti hanno garantito ancora una volta un'estate 2011 che farà felice i nostri concittadini e anche la provincia di Pordenone.